un micro cluster quindi non ha bisogno di filtri di passaggi di centrifugazioni è già pronto così non solo dovete riempire con il tutto questo è dei palletti e non lo mettete nello specchio che è un po' più lungo se si parte di un video liberate il video e voi abituate un po' più lungo Grazie